benvenuti bentrovati nuovo appuntamento con tutto bene tv abbiamo superato quota 80 puntate tutte le precedenti ve lo ricordo sempre volentieri le potete trovare sia sulla nostra pagina facebook che sull'apposito canale youtube che si chiama ovviamente tutto bene tv oggi e anche nella nostra prossima puntata un anzi due occasioni sicuramente speciali per parlare di cibo per parlare di qualità per parlare di quello che sta succedendo oggi adesso in questo momento in questo mondo così importante per noi che a volte troppo spesso diamo per scontato e per questo e le ringraziamo per essere con noi abbiamo invitato hanno accettato il nostro invito quattro ospiti decisamente importanti nella pratica clinica quotidiana veniamo coloro che paziente deve sapere che il medico si occupa di quello se il paziente lo sa si alzarda a fare le domande ma scusi dottore ma io si va bene il pane deve essere integrale ma dov'è poi deve essere buon dove vado a prenderlo se il paziente sa che il medico è disponibile questo settore spesso domanda queste cose a me è capitato qualche anno fa quando mi sono buttato a piedi uniti in questo ambiente e mi sono accorto che ero perduto non sapevo non avevo dato e quindi ho iniziato da allora una piccola ricerca personale nel territorio per identificare i produttori garantiti mi mettevo a fare il certificatore il controllore non era certo nelle mie però ho visto entrando lentamente in questo mondo che poi c'è un effetto romagna che da noi fantastico ci sono delle situazioni spettacolari nascoste che non sa nessuno e che vanno valorizzate il problema è che quindi rivolgersi al medico per avere consigli dietetici tanto vale rivolgersi alla nonna probabilmente ha più esperienza di vita e sentirsi dire mangia un po di tutto da un luminare scientifico che fa la subretta in televisione o dalla nonna preferisco sentirmi lo dire dalla nonna diciamo c'è molto da fare dopodiché c'è purtroppo una fortissima influenza di quello che è il marketing e l'informazione che è drogata da fini commerciali noi navighiamo fra superfood su un anno e l'anno della quinoa l'anno dopo i doji l'anno dopo gli anacardi piuttosto che lo zenzero e quindi e quindi abbiamo in realtà prodotti sui quali in base alle normative europee non si potrebbe vantare nessun effetto sulla salute perché diciamo non sono formalmente individuati però se ne parla cioè diciamo è riempiono pagine in trafiletti da 30 righe ma anche trasmissioni radiofoniche spesso coproduzioni del ministero delle politiche agricole sono in realtà superficiali sono una trasposizione di una qualsiasi gara fra cuochi in alto ad altro livello però in realtà non danno informazioni questo mi sembra anche un assist veramente perfetto per silver giorgini allora noi come azienda siamo sempre ben lieti di aprire le nostre porte costantemente a tutti quelli che ci vogliono venire a trovare medici compresi associazioni quant'altro le scuole per esempio soprattutto in questo periodo di gite siamo veramente subissati di richieste tant'è vero che c'è una segreteria solo per organizzare questi tour all'interno del mondo orogel mondo orogel che comincia dalla campagna perché va capito che le industrie non sono tutte uguali certo noi non ci sentiamo neanche un'industria siamo una cooperativa i nostri i nostri soci proprietari di questa grande struttura sono 1850 soci agricoltori che tutti i giorni lavorano per portare la qualità dal campo alla tavola la qualità va degli alimenti va conosciuta va discriminata all'interno dei supermercati bisogna capire cosa cose bene cose male per la nostra salute e superfood compresi perché non è che voglio dire adesso c'è questa moda di mangiare cose strane che ma chiamati superfood però non dimentichiamo che uno dei grandi superfood all'italiano è il cavolo nero cavolo nero che noi abbiamo utilizzato per fare delle zuppe lo utilizziamo da almeno dieci anni e questo è un vero e proprio una vera e propria miniera di sostanze buone per la salute l'approccio scientifico penso che sia doveroso a questo punto per chi dirige un laboratorio per la sicurezza alimentare come lo gestite come lo interpretate cosa assicurate e anche a chi il laboratorio sicura così come anche i laboratori che eseguono analisi microbiologiche chimiche sugli alimenti offrono delle competenze e dei servizi non solo ai produttori ma anche ai consumatori estremamente dando delle conoscenze estremamente integrate tra di loro importantissimo è infatti riuscire a mediare quella che è quelle che sono eventuali fake news come dicevamo prima o informazioni gonfiate extra misura che non sono di aiuto né per il produttore né per il consumatore e noi siamo un po il tramite in questo tra l'informazione scientifica e l'informazione come dicevamo prima anche da tv più tra virgolette popolare quindi meno scientifica e le esigenze del consumatore si rivolgo a noi infatti non solo produttori grandi realtà cooperative ma anche proprio consumatori di qualunque tipo il nostro laboratorio è rivolto a terze tutti gli effetti ed eseguiamo analisi su qualunque tipo di matrice alimenti più o meno elaborati acque terreni tamponi superficiali e riceviamo sicuramente da parte dei nostri clienti richieste di ogni genere ma anche richieste di chiarimento è vero è vero che è così è vero che fa male per favore mi fate un controllo sui miei prodotti per verificare a che livello siamo e noi offriamo tutta questa serie di servizi siamo un po non dico i consolatori ma quasi delle volte o cerchiamo di rassicurare o invece mettiamo in allerta laddove ci sono degli effettivi rischi